Sono l'ispettore delicato. Io con una donna ci parlo. Invece devi parlare con me, penso. Come va il lavoro? Bene, ora sono operativa. Che vuol dire? È un ispettore della squadra omicidi. Entrate ora. Anche piuttosto bravo. Piuttosto. Piuttosto. Ho saputo che non lavori più in archivio. Petra, ma che stai combinando? Fermo! Sta cercando di dirmi qualcosa. Per favore, Petra, stiamo sui fatti. Qualcuno la sta seguendo e lei è in pericolo. È colpa mia, ho sottovalutato i rischi. Non sono arrivata in tempo a monte. È sempre la solita storia, ispettore. Pesce grande mangia pesce piccolo. Una donna in divisa è più rassicurante, no? E infatti ci sono cascati tutti. Sembrava così simpatica, gentile. Se sapessero la verità. Sembrava. Sì. Sì.